salve buonasera buongiorno buon pomeriggio a tutti gli olio man e wild man uniti per uno scopo che in futuro video ciao stefano ferrari ciao stefano caparelli ciao dottor antonino ciao l'elino 88 che è sparito chissà che cazzo di fine ha fatto ciao già luca carta detto mille detto che 1988 e ciao 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 allora ragazzo appena acceso sempre sveglio da oltre le quattro e mezza di stamattina bonus d'accesso novità nella posta scusa amministratore why why vabbè sappiamoci tutti con 10.000 ragazzi ammazza quanti cazzo sono non lo so 10.000 vabbè meglio che non mi esprimo ragazzi ormai mi stanco pure ad esprimermi raga mi stanco anche ad esprimermi mi stanco tanto 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 pia raga la bambina ma c'è la combinata mattina apposta meglio che non vedeva meglio che non vedeva mortacci sua di suo nonno che anche mio padre dell'altro nonno non c'è più vabbè allora hai ricevuto tutto yes quindi siamo a 9 milioni e sette già da 30 monete del cazzo 5 contratti da ok vabbè ragazzi ieri dopo che ho chiuso fatto contro com l'ho vinta volevo finire questa raga ma non lo so non lo so per vince che cosa solo perché questi li ho vinti perché se vado qui vediamo l'ho vinto per vincere 50 monete allora ok prima uno l'ho vinto premio 2 l'ho vinto premio tecima non mette ma batte l'affanculo non mi interessa andiamo avanti con la campionato di football sempre con una squadra di merda tra l'altro c'è uno che mi ha scritto tu con questa squadra devi essere devi arrivata ne cazzo devo arrivare ma fattene affanculo testa di cazzo va va troviamo subito un avversario che già mi sono rotto i coglioni stasera c'è il derby derby europeo l'euro derby ma io la testa ce l'ho soprattutto giovedì eh ma non potrò averla la testa giovedì perché come della bambina festeggeremo in casa e la sera c'è siviglia juve che fine faremo butch troveremo un avversario oggi troveremo un avversario oggi troveremo un avversario oggi troveremo un avversario oggi non troveremo un cazzo oggi ma non c'è un avversario oggi ma non c'è l'avversario oggi ma non ci sarà un avversario oggi in effetti non c'è ragà ma c'è sempre cinque 4 tac 4 tac del cazzo una messica il caricato dove l'ha messo mia moglie o madonna mia ma non è questo è what e cosa mi poteva dare un italiano ma anche no con ami la bacchina da manto con ami però giochi in casa dai giochiamo di sera dai ous manto la e la madonna qua più 2 e la madonna questi mi volano minchia 99 o cazzo ora qua ma guarda che statistiche no no raga io li metto ma stai scherzando tutti i verdi ma il guto devo lasciare la difensivo difensivo e contro pietro bate ecco la mettiamo lui nessuno vai se sono pronto pure io non mi scassa la minchia e niente pareggiato la partita ieri ehm con un altro straniero ma vi faccio vedere dopo finiamo questo ah la bozza ma ragazzi sono rotti i coglioni ma mi sono rotto letteralmente i coglioni 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 25 euro per il coaching quando ho sentito una cosa quando ho visto una cosa del genito ma possibile e per farmi 8 ore nel culo dalla mattina alla sera 70 euroally siano ottonaro 70 euro netti diciamo a sinistra di passaggio può cercare il taglio e mezzo e cross e vai qualcosa e vai qualcosa sa quello libro secondo me che deve fare la cosa questo già mi ha scassato tre quarti di coglioni non è fallo là ma se ne è andata sulla terra guardate come sta l'arco quello guardate ma fa mocca a manto soffre cazzo in dem che figlio di puttana vaga va qua ciomeni raga non ci credo la sentiva ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto mediano eh ma ma come posso segnare con questo ragazzi e il risultato si sprocca 1 a 0 una rete importante che costringe gli avversari a reagire ora la partita si farà più a vincente sono capiti ho già le tacche mi ha rotto i coglioni questo ma verrà me che me li ha rotto però c'era giocatori statici fermi la gaccia e da basta no vabbè raga ho capito dai giochiamo con la marcatura da mamma mi che palle raga però dio santo ma gliel'ho data la palla la puttana da mamma minca già ce l'ho addosso e mo cambia gioco ma frecato quarta divisione devo beccati questi tossici ma no mi sta venendo di quittà raga non riesco a fare un cazzo proprio ma se udana a cursi ma dove e cosa ma cosa è quello solo ma donna mia voglia ma ma mi toglie questa l'ho marcatura stretta no no non è marcatura stretta l'ho abbezzo su un bapè ma ma come cazzo si fa che dove sempre i carri come fa a scattare quello già ma come grazia ha fatto raga io non ho fatto niente niente tristezza unica ma vabbè madonna mi questo con la melina gioca minchia un tiro ragazzi io tutti zero lui un tiro ha fatto ma è il gioco bello va proprio stimolante proprio si parte per la seconda frazione di gioco la squadra in svantaggio non deve innervosirsi e cittarsi in avanti in modo scomposto c'è ancora tutto il secondo tempo per ribattare il risultato ecco che parte a cross palla scaraventata via la mette sulla sinistra una serie di passaggi puliti efficaci la difesa si fa trovare pronta non riesco a dire una parola non so che fa non so che fa non so come ripartire sto solo rincorrendo lui la palla e la bacchina della mamma questo sto facendo raga è bravo che vi devo di non ha fatto un tiro in porta un gol cazzo vedevo di sta la palla indietro in attiva la devi dare indietro la palla ma gioia la mette in golo gioia la mette in golo è inutile e saltano volentata ma non saltano proprio a me ma guarda che pezzo di merda a perdere tempo sta facendo melina guanyu chi mi l'assistente è partito sono il costante il seguimento della palla non è un po' si ci prova con un pallone profondo vede lo scatto e cerca la profondità ma vabbè ecco c'è il conduttivo su qual è stato ma guarda quanti cazzo ne ha come cazzo devo fare ragazzi ho messo pause perché voglio mette 7 punti ma non riesco a fare niente bella ammazzata di lag niente pausa guarda 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 intercetta il pallone dopo una lettura magica e sfista superadiretto avversario ma guarda la tua porta no 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 e dai ma tu vabbè dai ma dai ma mi fai fare il cambio l'ha scassata da mamma ma 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 ragà non mi fai fare il cambio ma dove va ma che cazzo stai giocando con tuo fratello stai giocando con tuo fratello stai giocando alla gara devono capitalizzare al massimo le persone che li arrivano di stai giocando medica c'è ma voi vendetevi conto c'è rendetevi con questo come cazzo sta giocando raga non fa neanche i cani i cani ma c'è questa facendo mia linea io non ci voglio che questo mi sta facendo melina ragamma di vendete con il 2023 ancora ste minchiate dove dire io guardate guardate che schifo ma vi rendete conto che schifo cioè e non apre mai andata a puttane l'ara ma non batte guardate guarda in us che vado dietro come non è fatto io non so cosa commentarvi ragazzi ma veramente ditemi voi commentate voi ragazzi io non lo so proprio io non non questo sarà pure divisione 1 cioè stato divisione 1 di gioco le pare guardate che vi ho detto io arabo 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 italia vabbè ragazzi rimettiamo la cona che cosa devo dire mamma mia io sto già sto pensando stefan capparelli quante ne sta la dicendo quante ne sta la dice non c'ho nulla da commentare ragazzi nulla 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 turco vai io non c'ho nulla io non c'ho nulla da commentare non c'ho nulla nulla non c'ho nulla nulla non c'ho nulla nulla non c'ho nulla non c'ho nulla è un'importanza anche relativa al quadro generale della competizione e il penale è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certi in me La competizione e lo spettacolo in campo Non potranno che guadagnare Godiamoci 90 minuti Del nostro sport preferito De Bruyne raga De Bruyne Goal È gol, è gol, è gol Mantieni avanti La vedete con le facce Ma basta la gama Ma veramente Bello Taggi Che tiro stupendo Lettera A Salata Occasione per il conto viene Prova a darla profonda Nello spazio Se ne va Vanno dentro per De Bruyne Buona lettura difensiva Sarà però calcio d'angolo Va Vabbè Bello 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 proprio raga Di lusso Di lusso il passaggio Proprio è stato Sai quei filtranti di prima Madonna Madonna Ma tu dici Ma che Perché Vabbè Tilamento Perché Stai facendo Gioca Steca Prete Qua Raga Gol 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 Madonna Mi che schifo Pure voi Ne avete due Palle Piene Pura Vedeste Cacati Un becco Più Italiano Ma perché Ma che è successo Ma qua da tre ore per crossare C'è boh Ma tadici Ha 34 anni Ok lo possiamo andare a mandare a fare in cura Subito 34 anni Non mi ricordava Si ricomincia da una situazione di parità L'esito di questa gara secondo me sarà in pirico fino alla fine A nessuna delle tue formazioni manca il talento e la qualità per vincere Già recuperato Raga avete visto Già recuperato Cioè Era già stato recuperato Raga Intervento decisivo Hernandes Una serie di passaggi puli Efficaci Era al posto giusto Un bel anticipo Sceglie di andare per vie verticali Ma questo è un passaggio quantomeno discutibile Opportunità di ripartire Cerca la gran confusione No vabbè raga No 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 Questo è un supergollazzo raga Buah vabbè Minchia che tiro Tento di scattare qualcuno Ma non riesco mai raga Roberto Carlos Vede lo scatto e cerca la profondità Vai a fare in cura vai No che lagata Oh io tiro la bomba qua Mamma mia che lagata La sto appeggiando a partire da intri Perchè? 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 Debo la bacchina da man Debrui Unico per l'occhi scosno Scusate Vai che partita Ma come ca... Ma come l'hanno fatto sto Debrui raga? Ma c'è Davi Ok Sì vabbè Pallone alto Una manovra offensiva impeccabile Fabio Per impegno e tecnica Questo controchiede meritava un esito migliore No Madonna mia raga Non si riesce a saltare mai un cazzo di volta l'uomo E' la due a lui Dove va quello? Go Adò sbagliato di lui Madonna mia chimica Ma a me che tu son messo Via E non la prendo Madonna mia E non la prendo Scusate Ma questo si mette il tempo Sì Nico 5T Ma dove cazzo? 45 minuti Mica com'è lento però Se va realizzare un cambio Nel fulgatore Che l'arbitro fischia l'inizio Della seconda canzone di gioco Ed ecco lo stop sbagliato Il gioco senza stop è questo Bello raga Sto facendo i super go raga Guarda che lagata Guarda che lagata Sto facendo i super go ragazzi Questi sono da clippare ragazzi Questi go Si è incazzato ragazzi Si è incazzato Si è incazzato All'Aren Baggio All'Aren Baggio Con Roberto Baggio Già incazzato ragazzi Già meng la bomba Da do Inca che tu non sei rumenica Il che tu non sei per niente Un cazzo proprio Si è un cesso ambulante Porca puttana maial Ecco qua Vede lo scatto E cerca la profondità Orume A Romero Chance per tirare Questo è il massimo Per me terza divisione Turco Arabi Ehi ciao Clip Clip Cazzucate Squid Oh Fai i campi Oh Fai i campi Io non penso che questo fosse così fregato Se facciamo un quarto Forse quinta Forse Non ne sono sicuro Ma come si fa a mettere avanti Scegli di andare per via Scegli di andare Scegli di andare jobb Scegli di andare Qu الت�미 Qu'o l'ho risabola quel che tirava a volo del calcio di angla gas chissà che fino a fatto se vai de bro con calma ma proprio con scioltezza che era scassato da mamma scusate ma qua c'è qualcosa che non va ma che ma che è ma che sta con dei passaggi ma fa una tutta una stagione non quitta ammazzo che gollo le brunsa decisa acquittata la galla acquittata ebbene ce le facciamo un'altra quit 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 ma quando fanno così la spengono o va l'imposto io non ho mai capito ma sto pensando ancora a quella di prima mezzo ma bo e gira 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 e gira che rigira che gira che gira rigira 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 che g ieri sei stata fortunata due vittorie alla terza divisione ma secondo vabbè ma quanto meno del culo questa ragà ve lo giuro milo del culo sta sconfitta porca toia vabbè questo punto qualche vinci quando i campi anche se vuole mettere berardi c'era uno che non mi ricordo come si chiamava c'era sempre berardi ragà minchia come l'ha buggato pes diciannove mi sono pes diciannove si quando ho iniziato io a giocare calia come stai a brasiliano ammazza questo vedi qualche più 3 c'è lì a questo orca troia questo no che la bacchina ma ma scusco ma sta però io ovvio no metto per rati dai ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un attenzione speciale contro signore contro signore non ho vista formazione ma che ho fatto qua ma che cazzo ho fatto hai tutto il primo sai tic toc tac tac mamma mia raga ne ha 5 dietro questo mi ha 5 dietro è troppo largo l'armenica ma che uomo l'ha messo no non sto capendo un cazzo ragazzo sincero non sto capendo ecco decide di non rischiare errore qui pallone sprecato non so come non so come cosa fare ragazzi no no niente non so che fare ragazzi ogni a 5 dietro 9 cante non si può vedere la gara ogni a 5 dietro allora non 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 Oh! Sembra fattibile questo, ma questo me lo metterà in culo, raga, lo so già, vedete, raga, io sto gioco lo conosco come le mie tasche, è inutile, mi stia a fare il risultato, va bene. Non c'è il cante, perché ha detto cante? Vabbè, vai. Italiano e c'è sta scritta qua. Ma quanti fatti agli, guardate, cantate, raga, io sto vedendo quanti blu sto vedendo, raga. Quanti blu stanno incredibili, eh, raga, ma che cosa, ma come si fa a giocare così, vuole, ma scelta, eh, vuole, guarda qua. E lì può segnare, vede lo scantolo e cerca la profondità. Madonna, ma io sto gaffetto cucù suono incredibili. Ma quanti ne ha dietro? Vabbè. Minco, ma guarda che ho qui, sto perdendo. Vabbè. Ma la do tutti dietro, c'è la raga. Incredibile. No comment. No comment. Vabbè. Questo partito a quittare, raga. Non sono da giocare, sono da quittare. Le devo quittare queste, perché mi sto solo in Naposens. Guarda, io sto prendendo, sto scarso, raga. Io salgo, non me ne frega. O lo prendo, lo faccio. Ma più che altro lo prenderò. In culo, quello è sicuro. Avrà un minuto per l'esplodore. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Vabbè. L'arbitro fischia la fine di questa prima porzione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rite messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Si ricomincia. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e cittarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribattare il rischio. Stavo aspettando che Albara ha chiamato l'arbitro. Ok. Perché ho fatto sta cazzata? Ho fatto un'altra cazzata. Vabbè dai. Ho capito. Ho capito. Mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa. E saltate una volta. E saltate una cazzo di volta. Saltate una cazzo di volta. Una volta ve lo chiedo io. ...recevi un'ottima posizione. De Bruyne. Prova a darla profonda nello spazio. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Prova a tagliare sul secondo palo. E col tiro. Gioca una palla lunga. Neymar. Ah. No vabbè raga. Ma veramente sto facendo ste cacate io. Cioè questo è scarso io non riesco a fare niente. Guardate. Cioè questo mi regala le palle io non riesco a sfondarlo. Ottima scelta di tempo. Niente. Io non l'ho data a quello. C'è una merda. Che devo fare? C'è una buona alternativa. C'è una buona alternativa. C'è una buona alternativa. C'è una buona alternativa. Vabbè. Ammazza oh. Duzan. Minchè oggi che cosa sto facendo. Oh. Non è il tiro chito è morta eh? Beh. Oh 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 ecco deco sceglie di andare per via verticali e passa ma tu vuoi stare a vincuando ragazzi non riesco ad uscire ho segnato io e ma devi segnare per forza la muerte da mamma tu chiami non muestro mannaggia la muerte da sto sceglie di merda che rimasto mandato che due punti scusi va bene e dagli al luca fuori gioco non ne ho dato il fuori gioco vabbè gol ammazzo lo sapevo io e te lo prendi in culo mi dispiace vediamo il tagli sconderardi almeno c'è quattro libro almeno se potenza tiro potenza tiro più veloce dai dai mettiamo la tacca giusto come non è fa ma come non è fallo come non puoi o è qua schiena la vinci che è la vai d'usa vai la muestra mando cazzo asciutto ti diamo no no giusto 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 sbagliati io qua ragazzi eh uh ma lo sta solo là eh quello sta solo dall'altro lato madonna mi sto capendo un cazzo cammina bom sperardi rida squadra di merda ragazzo giocare una squadra di merda ma sto occupando già prima qui non qui i rapporti di forza sono chiari al momento sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro del team con calma decide di darla all'innoio Romario ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione ma è troppo andando anche l'omenico eh sì pensavo che non voglia dare a lui ti aspetta al barco con a te con a te chi te morti ti starà morti con bambas bacio a sui sui bambi ma qua tutte le prende tutti devo lottare tutti no vabbè e poi 1-2 è il suo classico che faccio con che non devo fare il kill questo sì che è una quarta divisione ma quanto mi ho del culo con la prima partita dovevo sta in divisione 3 adesso dovevo sta in divisione 3 ragazzi vabbè dai giustamente si è massacrato qua c'è una vittoria su quattro partite raga che cazzo è la cronaca un arabo raga arabo turco valutazione cortesia b questo figlio di puttana arabo vabbè vabbè raga bella gioco la registra comunque da tavi ben